Sapevi che un neonato su 100 presenta una malattia provocata dall'alterazione di geni specifici? La maggioranza dei portatori di malattie genetiche non presenta precedenti nella storia clinica familiare. Desideri verificare se siete portatori di qualche alterazione e ridurre al minimo il rischio che vostro figlio soffra di qualche malattia genetica? Nelle cliniche IVI abbiamo introdotto il test di compatibilità genetica TCG 549, un'innovativa tecnica che ci permette di minimizzare il rischio di comparsa di malattie a trasmissione genetica ai nostri figli. Perché compaiono le malattie genetiche? Tutti disponiamo di due copie di ciascuno dei nostri geni. Una delle copie viene ereditata dal padre, l'altra copia viene ereditata dalla madre. Le malattie genetiche ereditarie recessive compaiono quando vengono ereditate alterazioni in entrambe le copie dello stesso gene. Quando si realizza questo test, se uno solo dei due membri della copia possiede un determinato gene alterato non succede nulla. Tuttavia, se si verifica la coincidenza che entrambi i membri hanno lo stesso gene alterato, allora esiste un rischio elevato di trasmettere alla prole la malattia ereditaria. Con il TCG 549 possiamo rilevare fino a 600 malattie e ridurre la percentuale di rischio da 1 su 100, percentuale corrispondente a quella della popolazione in generale, a 1 su 30.000 nascite. Come si svolge il test? L'analisi viene realizzata a partire dal DNA ricavato dai campioni di sangue del padre e della madre. Per avere risultati ci vuole circa un mese. Quando è consigliabile farlo? L'esecuzione del test è consigliabile prima di iniziare i tentativi mirati alla gravidanza, sia se la coppia sta per sottoporsi a un trattamento di procreazione assistita, sia nel caso in cui la coppia stia cercando una gravidanza in modo naturale. Cosa succede quando si rileva che esiste un rischio elevato di generare prole malata? Quando ciò avviene si può ricorrere a una diagnosi genetica preimpianto per poter determinare e selezionare gli embrioni privi della malattia genetica. Un'altra opzione è quella di ricorrere a un trattamento con ovulo o sperma di donatore. Nelle cliniche IVI sottoponiamo al test TGC 549 anche i nostri donatori. Le malattie genetiche non si possono curare, ma si possono prevenire. Se desideri maggiori informazioni o prendere appuntamento con una specialista, puoi rivolgerti al 900 847 300 oppure contattarci attraverso il nostro sito ivi.es. IVI. Dove nasce la vita.